ciao a tutte sono federica di bull crossing e oggi vi parlerò di carbet che è uno degli ultimi cal appunto che abbiamo lanciato a bull crossing si tratta di un cardigan di kate davis e più che è un cardigan io lo vedo più come un giacchino per questo diciamo nelle mie proposte ho anche inserito dei filati comunque belli corposi e come la la fosse l'opi volevo farvi vedere questi passaggi allora abbiamo si è un bottom up quindi si parte dal basso per andare verso l'alto col corpo quindi due davanti e dietro si fanno le maniche dopodiché si mette tutto insieme e si inizia le diminuzioni per questo raglan un po particolare che va verso il collo e io adesso qui ho fatto il corpo dove ci sono indicati appunto due marca punti in corrispondenza del sottomanica uno qui e uno qui e ho finito anche le mie maniche che ho fatto insieme col magic club su un unico ferro circolare anche qui abbiamo dei marcapunti che ci indicano proprio la posizione del sottomanica la cosa che ci viene richiesta a questo punto è di mettere in sospeso mi sembra sei maglie in corrispondenza della del sottomanica si 33 maglie per ciascun lato ai margini del marcapunto quindi prima e dopo il marcapunto per fare questa operazione la kate davis ci fa passare le maglie e ci fa mettere appunto le queste maglie in sospeso voglio farvi vedere questo passaggio in modo che sia chiaro come 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 vengono lasciate queste maglie fuori su un filo d'avanzo e questo ci servirà perché una volta inserite tutte le maglie sul ferro vi farò vedere anche questa parte e inizierete la vostra costruzione del raglan e alla fine del capo dovremmo uscire queste maglie appunto maglia quindi le maglie che abbiamo lasciato in sospeso del sottomanica dalla parte della manica e le maglie che abbiamo lasciato in sospeso del sottomanica relative al corpo adesso partiamo un attimo con il tutorial per questo passaggio avrete bisogno di un filo d'avanzo meglio di cotone ma anche eventualmente di una lana merino superwash un ago e le forbicine che fanno sempre parte del kit della niter allora la nostra che i davis ci dice di muovere le maglie senza lavorarle per cui noi siamo qui e semplicemente ce le facciamo passare sull'altro ferro ci dobbiamo fermare a tre maglie dal marca punto eccoci a tre maglie dal marca punto a questo punto queste maglie prendiamo lago in cui abbiamo infilato il filo le portiamo fuori dal ferro e le posizioniamo sul nostro filo d'avanzo quindi 3 togliamo il marca punto e procediamo così per le altre 3 quindi abbiamo sei maglie tolte dal ferro che costituiranno il nostro sottomanica io faccio sempre un nodino al filo per essere sicura che stiano ferme adesso dovremmo fare la stessa cosa dall'altra parte quindi passiamo tutte le nostre maglie fino ad arrivare all'altro sottomanica siamo arrivate anche qui a tre maglie dal sottomanica e di nuovo ripetiamo l'operazione passiamo poi tutte le maglie fino alla fine del nostro davanti sinistro e poi passiamo alle maniche come vi dicevo prima io eseguito le mie maniche insieme su un ferro circolare perché trovo che sia una lavorazione più comoda non devo esattamente ricordarmi dove ho fatto gli aumenti perché vanno di pari passo adesso però dobbiamo toglierle ea per questa tecnica vi metto un video che ho girato che ho fatto proprio per la mia maglia zema in cui avvio le maniche proprio con con questa tecnica allora io mi sono fermata adesso a tre maglie dal marca punto chiaramente adesso dovrò togliere le maglie le maniche dalla ferro e in modo tale da metterle ciascuna in proprio ferro ed avere poi la comodità di inserirle nella nostra lavorazione per cui prima di tutto ci prendiamo un bel pezzettino di filo d'avanzo e mettiamo via queste maglie del sottomanica che come dicevamo sono tre e tre togliamo il marca punto 3 mettiamo un bel nodino e a questo punto io mi sono proprio presa due piccoli cavi così le sdoppio e ce le ho separate l'operazione che dobbiamo fare chiaramente sarà fatta seguendo l'andamento per cui inizio a mettere sul ferro metà della prima manica e poi loro passare alla seconda perché sono così me ne trovo così sul sul cavo qui una adesso passiamo alla seconda manica perché mi trovo sul ferro la seconda manica prendo l'altro ferretto e passo vado fino a tre maglie dal marca punto e anche qua metto in sospeso continuo e metto le maglie sul ferro anche qua seguo proprio l'andamento giro il lavoro e continuo con questa manica non potete sbagliarvi quando togliete le due maniche dalla lavorazione in tondo insieme non potete sbagliarvi perché dovete seguire le maglie per come si presentano per cui impossibile sbagliare ecco la mia prima manica è libera adesso continuiamo con l'altro ferretto sulla seconda manica e poi partiamo per questa grande avventura della costruzione dello sprone del carbet ok quindi le due maniche sono separate adesso dobbiamo mettere insieme il nostro corpo con le maniche per cui dovremo con il dritto del lavoro davanti a noi e il davanti destro iniziamo a attaccare il filo e lavorare le nostre maglie fino alla separazione quindi fino a dove troviamo le maglie messe in sospeso che sarebbero le maglie del nostro davanti destro proprio arrivati a quel punto dovremmo caricare le maglie della manica ecco qui a questo punto inseriamo la manica dobbiamo avere il sostanzialmente posizionarla e passare tutte le maglie della manica sul ferro di sinistra posizionatevi ecco in modo che corrispondano le maglie messe in sospeso della manica con quelle del corpo a questo punto iniziate a passare una una le maglie sul ferro di sinistra le maglie della manica intendo questo poi primo giro diciamo di raccordo sarà un po faticoso perché sostanzialmente sul ferro entrano tante maglie in più in un sol punto quindi si interrompe la lavorazione che viene comunque tenuta un po insieme dal corpo ma nel frattempo in questo spazio abbiamo tante maglie in più che dobbiamo lavorare quindi non vi preoccupate se fate fatica è normale e succede solo per il primo giro quindi il giro di raccordo di maniche e corpo siamo le ultime vedete rimangono tutte un po lì strettine ok adesso caricato vedete qui qui le maglie si toccano le maglie del sottomanica e io inizio a lavorare la manica con il filo del davanti destro quindi prosegue la lavorazione e continuo a lavorarle a dritto stringete magari un po qui se volete potete anche incrociare le maglie che così vi rimane vedete questa maglia la posizionate di qua e accavallate la maglia del corpo e poi tirate un poco e lavorate la maglia del corpo io preferisco farlo perché mi sembra che venga più un unione più solida chiaramente questo passaggio poi lo farò tra la manica e il dietro e di nuovo tra il dietro e la manica sinistra e ancora anche per la manica sinistra quando si attacca al davanti sinistro adesso sto completando la mia manica destra attaccherò a lavorare il dietro vedete che qui ci sono le maglie messe in sospeso controllate che sia tutta a posto anche qua faccio quell'incrocio quindi passa la maglia del corpo del dietro sul ferro di destra prendo la prima maglia che mi trovo sul ferro cioè che sarebbe poi l'ultima della manica destra le scambio ops scusate le scambio di posto cioè porto sul ferro di sinistra in modo da poterla lavorare l'ultima maglia della manica e la lavoro a dritto anche qua viene un bell'incrocio solido continuo per tutto il dietro e faccio la stessa operazione per la manica sinistra molto importante mero dimenticata di segnalarlo e che quando unite le due parti quindi in questo caso sono col dietro e la manica sinistra fate se avete piacere questo scambio di maglie come vi ho indicato e al centro dovrete mettere il marca punto questo vi viene ben indicato nelle istruzioni e perché avete bisogno di sapere dove poi costruire il vostro raglan quindi in prossimità dei marca punti che vi farò vedere dopo quindi importantissimo me l'ho dimenticata prima importantissimo inserire marca punti